Per il sindaco di Marugio, Alfredo Longo, oggi comincia una nuova avventura. Un'avventura importante da reggente della provincia di Taranto, a seguito da decadenza del presidente Gugliotti, traghetterò la provincia fino all'elezione di nuovo presidente, un momento fondamentale per la nostra provincia perché ci sono tante urgenze, sia in termini di viabilità, di elizia scolastica, dobbiamo permettere ai nostri ragazzi di tornare in sicurezza nelle scuole, ci sono già 30 milioni di euro disponibili per la manutenzione straordinaria delle scuole e ne stanno arrivando probabilmente a brevissimo altre 30. Idem l'impegno sulla regionale 8, per questo abbiamo già portato la convenzione con Asset e siamo in fase di redazione del definitivo che poi ci porterà all'esecutivo e quindi ai lavori di un'opera che da 30 anni questo territorio aspettava. Il comune della provincia di Taranto che dal suo punto di vista necessita di maggiore attenzione in questo momento? Il rapporto con il sindaco Melucci è assolutamente diretto, stavamo parlando proprio qualche minuto fa della necessità di incontrarci e decidere e programmare anche insieme qual è lo sviluppo di questo territorio considerando che Taranto ha un ruolo fondamentale e trainante da locomotiva per il territorio tarantino stesso. La provincia non può essere che al suo fianco. Buon lavoro. Grazie.